prima di iniziare lasciate un like di supporto e iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti se siete già iscritti attivate la campanella e scegliete ricevi tutte le notifiche mi raccomando ciao a tutti ben trovati sul mio canale feri ASMR io sono Federica e quello che state per guardare è un nuovo video ASMR pensato per il vostro rilassamento come al solito vi consiglio di indossare le cuffie oppure gli auricolari oggi voglio proporvi un video tag quindi questo sarà un video interamente dedicato al sussurro che so che vi piace tanto 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 sono convinta che cercherete di prestare attenzione alle mie parole ma che vi addormenterete entro qualche minuto vediamo se finco la sfida il video comunque è una risposta al tag ideato dalla bravissima Greta di cui vi lascio il link del canale giù nell'info box e sono stata taggata dalla mia amica Velia Black Moon ASMR anche di Velia vi lascio il link del canale in descrizione ad accompagnarci insieme al sussurro avrò degli oggetti molto triggerosi uno è questo lo avete già visto nel video di presentazione dei prodotti sulla skin care coreana e siccome vi è piaciuto molto oggi ve lo ripropongo bene, iniziamo dunque questo è un questionario per conoscerci meglio e io a mia volta lo ripropongo a Giulia S ASMR e Relax Yourself ASMR spero non le abbia taggate già qualcun altro dunque, prima domanda qual è la prima cosa che pensi quando ti svegli? di solito mi sveglia Jesse il mio gatto quindi la prima cosa che penso è che ore sono spero non sia troppo presto e spero siano almeno passate le sette e devo alzarmi per dargli da mangiare comunque ero riuscita ad abituarlo a svegliarsi più tardi, tipo verso le otto però ogni tanto perde l'abitudine vabbè seconda domanda hai mai odiato così tanto da augurare del male? l'odio non è un sentimento che sento mi appartenga però probabilmente in momenti di grande arrabbiatura in passato posso aver detto qualcosa di brutto in riferimento però a persone che in realtà neanche conoscevo ma che sapevo aver fatto del male ad altre persone di mia conoscenza quindi è possibile che sia capitato che io l'abbia detto ma non ho veramente mai odiato nessuno e comunque non è un evento che registro negli ultimi dieci anni adoro questa boccetta mamma mia terza domanda credi nella vita dopo la morte? no penso che dopo la morte non ci sia nulla anche perché non abbiamo più il cervello quindi è difficile pensare che possiamo esistere in qualche modo così come siamo adesso e visto che è stata dimostrata dopo il po' di tempo la non esistenza dell'anima direi che no dopo la morte secondo me non c'è nulla poi guarda domanda pensi che ogni cosa sia già stata scritta? no ma nell'ottica del pensare a una dimensione sovratemporale perché comunque il tempo che noi misuriamo è valido per noi ma non è qualcosa di oggettivo quindi nell'ottica del considerare l'esistenza di un altro sistema temporale è possibile che tutto sia già conosciuto il passato, il presente, il futuro e poi mi piace moltissimo l'idea della canzone Samarkand ti aspettavo qui per oggi a Samarkand non so se ce l'avete presente credo di averlo già detto in qualche video tra l'altro il soldato che sfugge alla morte durante la guerra è finita la guerra ha l'impressione di notare tra la folla una signora vestita di nero che è probabilmente la personificazione della morte allora scappa e corre lontano e arrivato a Samarkand si ferma stremato ma è lì che incontra nuovamente la signora vestita di nero la quale gli dice cosa ci facevi l'altro ieri io ti aspettavo qui per oggi a Samarkand ed eri lontanissimo due giorni fa due giorni o tre giorni due forse scrivetemelo qui sotto se conosciate la canzone non mi ricordo andiamo avanti credi che se sei positivo ricevi positività? sì assolutamente sì in qualche modo essere positivi introduce una variabile di positività nel sistema oggi ce l'ho con i sistemi e quindi assolutamente essere positivi mette in moto un meccanismo grazie al quale le cose brutte iniziano a cambiare a prendere un'altra piega sesta domanda esiste l'amore eterno? allora credo che esista e non sono sicura che sia l'amore tra due fidanzati o compagni ma certamente esistono forme di amore che durano per sempre sto pensando all'amore per la mia famiglia o che la mia famiglia nutre nei miei confronti e sto pensando all'amore che ho per Jessie per esempio all'amore per i miei amici quindi direi che questo genere di amore possa durare per sempre invece l'amore di coppia è molto strano perché è legato a un interesse egoistico e a volte ci si fa del male anche non volendolo e quindi per questo motivo l'amore può finire cambiamo oggetto sempre direttamente dal video sulla skincare coreana una maschera peeling all'ibiscus in realtà un semplice sacchetto che contiene della polvere all'interno mi piace il suono che fa a voi piace? scrivetemelo qui sotto per favore vorrei capire a quale suono siete più sensibili intanto ho dovuto spegnere il frigorifero allora una cosa fatta di cui non vai fiera non vado fiera non vado fiera di aver detto una bugia un po' di tempo fa un bel po' di tempo fa e soprattutto perché sono una persona molto trasparente e schietta e per me le bugie sono qualcosa di veramente brutto però in quell'occasione l'ho fatto per proteggere diciamo un rapporto è stata una situazione un po' particolare e comunque si non ne vado fiera ottava domanda hai mai partecipato a una seduta spiritica? no l'ho fatta per scherzare insieme a una mia amica le mediche però era davvero solo un gioco quindi no nulla di fatto con intenzione seria anche perché non credo a questo genere di cose nona domanda hai mai svelato un segreto? se si intende un segreto di altri mi è capitato dopo tantissimo tempo di svelarne uno alla mia migliore amica ed era un segreto che ero stata costretta a custodire da una persona non importante per me ma che con il tempo non era più un segreto nel senso che tutte le persone attorno a questa persona che me lo aveva confidato lo erano venute a sapere non da me e quindi poi col tempo era diventato totalmente non importante e quindi in un'occasione in particolare l'ho rivelato a questa mia amica a cui mi era stato chiesto di non dirlo ma era tipo il segreto di bulcinella ormai quindi e poi erano trascorsi più di dieci anni penso decima domanda se vedi un carro funebre fai gesti scaramantici no mi dispiaggio però non faccio gesti mi dici ti fai il segno della croce quando entri in chiesa solitamente sì per abitudine più che altro sono stata abituata a farlo perché al liceo ho frequentato una scuola cattolica e quindi sì mi sono abituata a farlo quindi quando capita che entri in una chiesa solitamente lo faccio 12 all'occorrenza impreghi io credo che l'impregazione non sia equivalente alla bestemmia cioè credo che impregare significhi dire le parolacce però non ne sono sicura forse mi sto sbagliando ditemelo voi quindi non so rispondere a questa domanda perché ogni tanto capita da poco tempo però che io dica qualche parolaccia però non capita assolutamente mai che io bestemmi anche perché è una cosa che a prescindere dalla credenza o meno in una qualsiasi divinità non mi piace non mi piace proprio fare 13 vorresti sapere quando morirai? assolutamente no ma proprio no 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 comunque Greta se non la conoscete andatela a guardare è veramente una ragazza molto speciale una ragazza che è affascinata dal mondo un po' magabro il terzo oggetto che ho scelto di prendere per fare qualche trigger è il mio parattolo dei buoni propositi ne ho fatti diversi quest'anno e questo è giallo vedete contiene palline di polistirolo e alcuni bigliettini con scritti i miei buoni propositi e qui c'è un gatto giallo con gli occhietti che si muovono non so se riusciate a vederlo da questa distanza poi c'è un cartellino con su scritto buoni propositi di fede e leggiamo la prossima domanda 14 sei fissato con la lettura del tuo oroscopo? assolutamente no non credo nell'oroscopo quando ero piccola avevo inventato inventato avevo proposto una rubrica dedicata all'oroscopo all'interno del mio giornaletto che leggevo solo io perché creavo delle riviste e io ero l'autrice dell'oroscopo e naturalmente era tutto inventato domanda numero 15 l'abito fa il monaco? ma questa è una domanda molto interessante io penso che in contesti in cui siamo liberi di scegliere la scelta del modo in cui ci vestiamo o ci trucchiamo o ci prepariamo sia un po' influenzata dal nostro carattere il che non deve ovviamente spingere le persone a fermarsi al pregiudizio o a fare facili equazioni del tipo vestito provocante ragazza facile di facili costumi oppure non lo so vestito trasandato persona povera non è sempre così ovviamente e questo va tenuto in considerazione però l'abito per così dire secondo me rispecchia qualcosa del nostro carattere o comunque qualcosa del nostro stato d'animo del momento in cui lo scegliamo e purtroppo è anche vero che soprattutto nel campo della vendita ci sia la tendenza a fidarsi di persone che sono vestite, preparate presentate in un certo modo e a non fidarsi di altre persone che hanno un'apparenza magari meno impostata meno curata pensate anche solo al fatto che sembra venire più facile dare del lei a un medico perché ha la divisa piuttosto che a un barista magari a un benzinaio anche se hanno la stessa età e magari sono nostri coetanei è mai capitato? fatemi sapere che ne pensate di questo mi interessa molto domanda numero 16 vorresti sapere un pettegolezzo su di te? non sono particolarmente attratta dai pettegolezzi tranne quando si tratta di chiacchiere da bar proprio spese giusto per divertirsi per scherzare con qualche amico ma il pettegolezzo nel senso brutto del termine non mi piace quindi ne farei a meno sinceramente non mi interessa tra l'altro il fatto è che le vengo sempre a sapere i pettegolezzi su di me sono una tipa spettacolata scherzo poi diciassettesima e penultima domanda qual è il tuo guilty pleasure? cioè qualcosa che ami fare e che è vista come strana e quindi inconfessabile non c'è niente che sia così tanto strano da essere inconfessabile magari ci sono delle cose che preferisco non dire a tutti ovviamente ma non so non mi ritengo particolarmente strana tanto da dover nascondere alcuni piaceri alcune preferenze quindi sì cioè non mi mangio le caccole e non faccio cose di questo genere quindi non so rispondere a questa domanda dieciottesima domanda siamo arrivati alla fine pensi di essere una brava persona? sì penso di essere una persona affidabile rispettosa rispettosa che ama collaborare per far funzionare le cose questo vale anche nei rapporti con le persone bene spero tanto che questo video vi sia piaciuto non dimenticate di lasciare un like prima di andare via e di iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti attivando anche la campanella io vi saluto e noi ci vediamo come al solito se vi va nel prossimo video bacini fatosi adesso tocca a te hai già lasciato il mi piace? iscriviti e clicca sulla campanella per non perderci di vista oppure abbonati se vuoi sostenermi ed entrare a far parte della Fairy Crew ah e se vuoi continuare a rilassarti clicca su uno di questi altri video che ti lascio qui intorno penso possano piacerti buonanotte e se vuoi non 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 adesso mi vuoi vediamo